Per decenni lo abbiamo chiamato Porto Vecchio, 66 ettari di eredità asburgica per una Trieste che attendeva di ritrovare in questo eccezionale spazio affacciato sul mare una nuova prospettiva. Ora vogliamo chiamarlo Porto Vivo per raccontarvi in questo ciclo di sei trasmissioni, di sei puntate, come il Comune di Trieste vuole trasformarlo in uno spazio da attrazione di impresa, di investimenti, ma anche in un bosco urbano al servizio della vivibilità dei cittadini. Porto Vivo è il futuro della città di Trieste sul quale è stata impostata un'importante campagna di comunicazione che potete seguire anche al portale portovivotrieste.it con l'assessore comunale Everest Bertoli che è assessore al Porto Vecchio, ovvero alla trasformazione verso il Porto Vivo per capire quelli che sono gli intenti generali dell'amministrazione. Siamo nel cuore di Trieste in un'area di 65 ettari a fronte al mare che non ha pari non solo in Italia ma nell'Europa mediterranea. Un'area meravigliosa da anni per anni, per lungo tempo, chiusa, proibita ai triestini che oggi nei intenti dell'amministrazione comunale e nel progetto e nell'obiettivo che ci siamo dati è quella di una rigenerazione urbana nell'ottica trigenerazionale di quest'area. Cosa vuol dire? In quest'area noi vogliamo che vivano insieme bambini, adulti e anziani in qualcosa di straordinario e meraviglioso che trasformerà non solo quest'area ma trasformare la stessa città di Trieste. Everest Bertoli è anche assessore al bilancio quindi le chiedo dal punto di vista economico quali sono gli stanziamenti già effettuati per il progetto di Porto Vivo e quelli che arriveranno per gli interventi che via via si susseguiranno in queste aree? Sono ingenti e imponenti investimenti soprattutto da parte del pubblico in questo momento, stiamo parlando di oltre 160 milioni di euro messi in campo sia grazie ai trasferimenti statali sia grazie al PNRR ma sia anche grazie ai trasferimenti regionali e sono i soldi propri del comune quei quali andiamo innanzitutto a rigenerare, a trasformare le aree cosiddette pubbliche. 19 milioni per il viale monumentale, parliamo dei 21 milioni per quanto riguarda il parco Femia, il parco lineare cosiddetto bosco urbano, aree tra l'altro dove non solo ci sono già i fondi ma a fine giugno verranno bandite le gare da palto, parliamo dei 5 milioni per l'area ludico sportiva, parliamo dei fondi per quanto riguarda l'infrastrutturazione dell'area. Sono dei fondi molto importanti che il pubblico stesso ha deciso di anticipare, questo per prendere l'area ancora più attraente e soprattutto pronta per gli investitori privati che stiamo cercando perché poi il cuore di questo investimento, parliamo di circa un miliardo di euro, è l'investimento degli investitori privati che stiamo cercando per la rigenerazione intera dell'area. Nell'ottica e nella logica, come dicevo, di un investitore forte, capace di eseguire questi lavori su tutta l'area del Porto Velcro perché quello che vogliamo è avere una visione unica per mettere insieme dalla parte ludico sportiva, dalla parte dei ristoranti e commerci, dalla parte degli alberghi, ma anche la parte scientifica, come per esempio l'università o l'OGS. In questa ottica generale ci stiamo muovendo e le fiere che abbiamo fatto, gli eventi internazionali che abbiamo già seguito ci hanno confortato nella bontà della nostra scelta. Facciamo allora un esempio concreto. In questo momento siamo sulla murata esterna del muolo del bacino che sta accanto all'Adriaterminal. Qui dietro, in questo spazio straordinario affacciato sul mare, cosa vedremo nel futuro di Porto Vivo? Nel futuro di Porto Vivo, in quello di concreto, oggi vedete due magazzini abbandonati e semidistrutti. Immaginate invece in quest'area, in quest'area meravigliosa che dà sul mare, due alberghi, e non dico solo immaginate perché di cui lo stiamo lavorando, due alberghi a 5 stelle molto importanti, quindi per una fascia anche altissima di turismo, una marina di mega yacht, dei ristoranti sul mare e una lunga passeggiata che ha di 3 chilometri, piena di chioschi, ristoranti e di vita sociale per tutti, per tutti noi triestini, per i turisti, ma anche per i nostri ragazzi, per i nostri studenti universitari, per i nostri giovani, per gli adulti e anche per i nostri anziani. Siamo nel bel mezzo dei lavori del cantiere di Porto Vivo, alle nostre spalle Ruspe in azione, con noi il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Questo è il cantiere per la nuova viabilità, che segue quello dei sottoservizi, perché prima di portare le imprese, le attività, bisognava infrastrutturare a livello di acqua, luce e gas. Bravo, qui sono 120 anni e non c'era niente, mancava completamente l'urbanizzazione dell'area. Qui sotto abbiamo messo decine di migliaia di tubi di acqua, fognatura, luce, gas, telefoni, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo portato anche gli scarichi a mare da un metro, perché è meglio prevenire che curare, visto che arrivano queste piogge forti, così ci sono degli scarichi a mare molto importanti. Adesso è infrastrutturata, vedete gli scarichi, vedete i pali della luce, vedete le fognature, vedete tutto quanto, adesso a settembre verrà asfaltato e apriremo da Largo Santos fino alla rotatoria, ci sarà questa strada e così i triestini potranno di nuovo poter venire a correre, poter usufruire di questo posto meraviglioso che è la vita della città, perché con Maria Teresa d'Austria la città è diventata da 40.000 abitanti, che era un borghetto a 270.000, io credo che un 20-25.000 abitanti con quello che succederà in Porto Vecchio riprenderemo. Si parlava di correre, Sindaco, e questa sarà proprio la bretella che verrà riaperta da Largo Santos in poi e permetterà ai cittadini di fruire nuovamente del Porto Vecchio. Innanzitutto guarda i marciapiedi molto larghi, poi ci saranno le piste ciclabili, abbiamo fatto ingresso-uscita e non un unico ingresso, un'unica uscita, proprio per favorire le piste ciclabili, qui ce ne sarà una e dell'altra parte dopo sul viale ce ne sarà un'altra, ma guarda la larghezza dei marciapiedi che sentirà i triestini di venire dentro in Porto Vecchio, di correre, di frequentare come veniva fatto prima, prima dei lavori. Provo a immaginare questo viale così come sarà con i pali della luce, sono già arrivati i 68 pali della luce che ricordano e che sono uguali ovviamente a quelli davanti al centro congressi. E tra l'altro sarà anche un nuovo modo di spostarsi dalla città a Barcola con questa nuova struttura viaria. Le piste ciclabili e a piedi, perché qui veniva, guarda che era molto frequentato prima, da Largo Santos la gente veniva dentro e ritornerà dentro, lì c'è la taverna che è stata vincolata dalla sua intendenza, poi diventerà un bar, un ristorante. Allora dal magazzino 26, vi ricordo sempre, Museo del Mare, 38 mila metri quadrati di solai, uscirai e avrai la taverna che è un ristorante, un bar che consentirà ai cittadini di fermarsi, insomma è un cambio totale del modo di vivere della città. Sempre in piena operatività, sindaco, di lavori in quello spazio che diventerà il parco lineare verde o bosco urbano, quindi spazi per camminare, per correre, per andare in bici, alberi, panchine, insomma lo spazio in cui i cittadini vivranno Porto Vivo. Questo diventerà un parco, pensate, la Giuse, si vede San Giusto, è una cosa fantastica, provi a immaginare un parco tutto alberato, panchine, di tutto e di più e poi traguardi, il castello di San Giusto, fantastico. Lasciando da parte i dati, i numeri, che cosa significa per il sindaco di piazza il progetto di Porto Vivo? Chiedo proprio, diciamo così, una dichiarazione, diciamo così, dal cuore. Io sono al quarto mandato di Trieste e sapete che sono sempre portato verso i cantieri per avere la grande viabilità, le rive, piscine, chi più ne ha più ne metta, parcheggio eccetera. Adesso questo è una cosa che mi fa impazzire, nel senso che ti viene tanta voglia di fare perché capisci che è il futuro della nostra città. Questo è il futuro della nostra città. In questi sei mesi abbiamo registrato il 40% in più di turismo, pensate voi cosa succederà con l'arrivo di Porto Vivo. Non solo 66 ettari e 5 moli, ma anche 35 tra magazzini e hangar da valorizzare. Dunque per Porto Vivo è in corso un'attività importante a livello immobiliare di Real Estate. Ne parliamo con l'ingegner Giulio Bernetti, presidente del consorzio Ursus, per capire innanzitutto il tema delle destinazioni d'uso, ovvero quello che si può fare e dove in questi spazi. Il masterplan di Porto Vecchio prevede essenzialmente la divisione del porto in quattro sistemi. Il sistema a nord ludico sportivo dedicato alle attività ricreative, il sistema dei congressi e dei musei nell'area centrale, quindi molto di ispirazione a servizi pubblici. E a sud abbiamo il sistema dei moli, destinato prevalentemente alle aree legate ancora ad autorità di sistema portuale e il cosiddetto sistema misto, che in qualche modo comprende tutti i magazzini storici del Porto Vecchio. È il sistema misto ad aver sviluppato la parte innovativa del masterplan, dove il comune ha deciso quello che non si vuole che si faccia in quella zona, piuttosto che dare singoli destinazioni d'uso e che poi si scontrano con l'aspetto economico e con la reale valorizzazione. Quindi il comune non vuole industrie e non vuole centri commerciali, ma il mix di altre destinazioni e il corretto equilibrio tra queste verrà deciso dal privato. Un altro elemento importantissimo del Porto Vecchio, che forse non è stato mai sufficientemente sottolineato, è che questa non sarà una città proibita, non sarà venduta in blocco, ma il Consiglio Comunale ha stabilito che tutte le aree pubbliche rimarranno per i triestini ed è per questo che ci sono tanti investimenti pubblici su queste aree. Qual è il ruolo del Consorzio Ursus? Il ruolo del Consorzio è essenzialmente innanzitutto quello della promozione, sia sul web, sia con la partecipazione ai numerosi convegni e congressi cui Ursus è invitato di promuovere il Porto, promuovere l'alineazione dei magazzini, ma anche la specificità, perché va ricordato che abbiamo un patrimonio di carattere culturale unico nel suo genere e va conservato. E in questa linea qua anche il piano regolatore è stato molto chiaro sulla massima tutela dei magazzini. Il Consorzio Ursus promuove lo sviluppo e l'alienazione di questi magazzini anche attraverso la raccolta dei potenziali investitori, che devono essere però investitori reali, che intervengono sul territorio, non semplicemente che comprino. È molto facile comprare, l'avremo già venduto 20 volte, ma il rischio di alienare to cure un magazzino consiste nel fatto che poi il proprietario fa quello che vuole. Per esempio, se decide di non intervenire per 20 anni perché un fondo di investimento lo tiene lì, noi stiamo come pubblica amministrazione investendo fuori e nessuno investe dentro. Sarà proprio grazie alla finanza di progetto e al partenariato pubblico-privato che ci sarà questa relazione continua tra pubblico e privato che consentirà un adeguato e controllato sviluppo. Per il progetto Porto Vivo, Ursus collabora ovviamente con il Comune di Trieste, con la Regione, con l'autorità portuale. E in particolare la Regione ha già deciso di investire, spostando in proiezione futura, le attività che sono realizzate in 12 edifici del centro storico in un'area del Porto Vecchio che diventerà un centro di servizi. Come il Comune che sta investendo nelle aree pubbliche e nei musei, la Regione ha deciso di scommettere su Porto Vecchio. Quindi ha acquistato 4 magazzini per lo sviluppo dei propri uffici più un altro magazzino che sarà destinato attraverso l'intervento anche del Comune di Trieste a centro per l'impiego, sempre per mantenere una salda operazione pubblica nell'area e garantire e mostrare anche al privato che il pubblico per primo ci scommette. Grazie a tutti.